Come ogni anno, tanta attesa per il rito di accensione della Iaccara, che chiude la parata dei Turchi in piazza Matteotti, nei pressi del palazzo di città. Per la prima volta quest'anno è stata una donna a scalare l'imponente cielo di devozione al santo, interamente composto da canne, al cui interno viene posto un palo di castagno. Lei è Fabrizia Pace e ci racconta così la sua esperienza. Allora, a partire da quest'anno mi trovo a far parte dei portatori della Iaccara. Per me questa è una prima esperienza anche di partecipazione in generale alla parata dei Turchi, in quanto ho sempre vissuto l'occasione come da spettatrice o da accompagnatrice per mia figlia. Quindi non mi è mai successo di mettermi in prima linea per quanto riguarda la parata dei Turchi e per me questa è la prima esperienza all'interno della parata. Il fatto che scali una donna sicuramente è una novità, però diciamo che il messaggio che vorrei far passare è che la novità non dovrebbe essere il fatto che scali una donna, ma il fatto che si ha la prima donna a scalare la Iaccara, che sono due messaggi completamente differenti. Se ne parlò circa un anno fa in maniera, diciamo così, confidenziale e poi è stata concretizzata sostanzialmente quest'anno e nei primi mesi dell'anno. Quindi abbiamo tenuto la cosa nascosta fino ad oggi. Allora diciamo che un pochettino bisogna essere un minimo sportivi, però diciamo che sono avvantaggiata dal fatto che da tanti anni faccio arrampicata sportiva, da quando avevo l'età di 18 anni, quindi diciamo che sono abituata sia all'altezza sia all'arrampicata.